L'unica cosa che gli manca è la parola, per il resto hanno più sentimenti di certe persone. Quando tutto sembra andare male, ricorda che gli aerei decollano contro il vento, non con il vento a favore. Gara vita, qualche volta concedi un attimo di tregua alla gente stanca, qui i buoni ci rimettono sempre. Io manderò un bacio, il vento, e so che lo sentirei, ti volterai senza vedermi, ma io sarò Quanto più in alto ci alziamo, tanto più piccoli sembriamo a coloro che non possono volare. Gli cimiteri sono pieni di persone che pensavano di essere indispensabili. Potranno recidere tutti i fiori, ma non potranno fermare la primavera. Cosa rimpiango nella vita? Il tempo perso con le persone sbagliate? Qualunque cosa tu possa fare, qualunque suono tu possa suonare, comincia. ora. L'audace rega, in sé genialità, magia e forza. Comincia ora. Cosa. 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 Grazie per la visione!